In esclusiva su Canale 5 il tradizionale concerto evento di Natale. In un'unica serata, tanti artisti si esibiranno a favore dell'emergenza educativa e sociale causata dal Covid. Facciamo rete per il nostro futuro con la Fondazione Scola Soccurrente Semissioni Don Bosco. Dall'Auditorium Conciliazione, ventottesimo concerto di Natale. Conduce Federica Panicucci. La vigilia di Natale in prima serata. Canale 5. La vigilia di Natale in prima serata.